Poste Italiane comunica che da lunedì 31 agosto tornerà disponibile con orario continuato l'ufficio postale di Ispica. La sede di via Vittorio Veneto 1, che nell'ultimo periodo aveva rimodulato l'orario di apertura al pubblico, sarà operativa da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Accanto al programma di riapertura e ripristino degli orari al pubblico, all'interno della sede di Ispica l'azienda ha installato una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l'accesso e il transito nei locali, consentendo un'attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale. Anche in questa fase, Poste Italiane raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare dispositivi di protezione individuale. Per conoscere gli orari dell'ufficio postale aperti e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.